Do you speak English? Yes, I do! E voi? Siete pronti ad imparare l'inglese con me? Vi aspetto tutti i giovedì alle 18.30 per un corso base d'inglese presso l'Accademia del Tempo Libero. Le lezioni si svolgeranno online a partire dal 26 novembre. Il corso comprende 12 lezioni ed in più faremo due uscite in cui metteremo in pratica ciò che abbiamo imparato. E ricordatevi, English is for everyone!